Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per provare una novità di Maybelline, ossia il nuovo mascara. Ed eccolo qui, si tratta di The Colossal Cerro Bounce e questo è il pack, devo dire molto originale, diverso dal solito. Come tutti i prodotti di Maybelline ha spopolato sui social, soprattutto su TikTok e quindi non vedo l'ora di provarlo. Questo mascara promette di curvare tantissimo le ciglia, tanto da non dover usare il piegaciglia. Sono davvero davvero curiosa perché io comunque il piegaciglia lo uso sempre, nonostante io abbia comunque delle ciglia abbastanza curve e lunghe, però voglio proprio vedere se le curva così tanto. Mi raccomando, se vi piace questa tipologia di video lasciatemi un like per supportarmi e iscrivetevi anche al mio canale. Allora, momento verità. Forse da così vicino lo vedete anche meglio. Lo scovolino è fatto in questo modo. Diciamo che me lo aspettavo più curvo, visto che deve curvare, però magari non vuol dire niente. Diciamo che come grandezza e come setole mi piace, ma andiamo subito a provarlo. Faccio, come sempre, dei movimenti a zigzag e poi spingo, diciamo, verso l'alto. Questa è una sola passata, cioè pazzesco. A parte la differenza abissale tra i due occhi, ma mi piace moltissimo, perché sì, le curva, è vero, però le allunga anche tantissimo e dà comunque un po' di volume. Pazzesco. Proviamo a fare una seconda passata. Cioè, io sono scioccata. Guardate la differenza. Cioè, io questo mascara lo amo. Punto. Cioè, penso sia il mio preferito del momento, perché mi piace tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Io penso che il mio parere l'ho espresso chiaro e tondo. Veramente non pensavo, sono sincera, non pensavo fosse così performante, diciamo, però, cioè, fantastico. L'ho messo su entrambi gli occhi. Cioè, io sono innamorata. Voi avete già provato il nuovo mascara? Fatemelo sapere nei commenti e ovviamente supportatemi se vi è piaciuto questo video e se l'avete trovato utile. Noi ci vediamo alla prossima.